Buongiorno Notizia. Pochi secondi alle otto e quarantasette. Buongiorno ancora bentrovati a quanti si sono messi soltanto adesso all'ascolto di Buongiorno Notizia. È giunto il momento del nostro ospite. Oggi è il dottor Salvatore Cacciola, sociologo dirigente, responsabile dell'unità operativa educazione alla salute dell'ASP di Catania. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Oggi parleremo di un bel progetto, un progetto che mi piace tanto, si chiama Muoviti Ancora e naturalmente già dalla parola chiaro invita al movimento di tutti noi per migliorare la nostra salute. Sì, è proprio questo. La promozione dell'attività fisica è per tutti ovviamente un fattore protettivo per varie patologie. In particolare noi stiamo offrendo in modo attivo questo tipo di servizio agli anziani ultra 65 anni. È un progetto che sta coinvolgendo 150 anziani, una metà con patologie conclamate e un'altra metà di anziani senza alcuna patologia, però ovviamente con una certificazione di donità all'attività fisica non agonistica. ecco, in pratica fate dei gruppetti e passeggiate per la città di Catania in questo modo contribuendo ad aiutare chi soffre di patologie particolari. Come avviene? Sì, sono dei gruppi ovviamente. Prima della costituzione del gruppo, appunto come dicevo prima, è necessaria una certificazione del medico di famiglia. Se è necessario facciamo anche degli ulteriori approfondimenti, richiedendo anche l'etirocardiogramma o una visita del cardiologo, quindi devono essere persone in condizione di muoversi, ma la maggior parte delle persone sono in condizione di farlo. Un appuntamento dedicato magari ai più pigri, a quanti non fanno altri sport, non fanno palestra, però è importante muoversi, è importante camminare perché appunto mette in azione tutto il metabolismo. Sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia almeno 150 minuti alla settimana di attività non stressante. Noi camminiamo, c'è un esperto lavorato in scienze motoriche che poi fa anche delle tappe con degli esercizi di ginnastica dolce e quindi alterniamo il cammino spedito, veloce, ma non stressante, non agonistico chiaramente, con dei momenti di ginnastica dolce, tutto in un'ora, un'ora e un quarto. Non solamente a Catania, in diverse realtà della provincia di Catania, a Catania oltre che per strada in particolare nella Villa Berlini che già è uno spettacolo. C'è il gruppo più numeroso. C'è il gruppo più numeroso, sì. E poi a Mister Bianco, Sant'Avola dei Battiati, Librino, c'è un bel gruppo che abbiamo promosso in collaborazione anche con la misericordia di Librino e adesso il 31 di questo mese partirà un altro gruppo, Proletari Cireale. Ecco, cosa vi dicono questi anziani? Hanno dei benefici immediati da questa attività svolta? Sì, innanzitutto il primo beneficio è il cambiamento dell'umore, è un'occasione anche di incontro, di socialità e questo sicuramente è un elemento che ha a che fare con il benessere psichico della persona. Poi esistono delle evidenze di carattere medico, come tutti sanno, che riguardano la riduzione del rischio di ammalarsi, sia rispetto al, si riduce il rischio di ammalarsi di diabete, di malattie cardiovascolari, anche le malattie oncologiche vengono addirittura a una riduzione del rischio. E poi, ripeto, miglioramento dello stato complessivo dell'umore della persona e riduzione dell'insonnia. Cioè l'attività fisica è un toccasana, non costa nulla e non bisogna ingerire nessun farmaco se non necessario. Non è necessario un equipaggiamento particolare, quindi? No, scarpe comode, un vestiario comodo, non c'è bisogno di essere griffati, nessuno chiede nulla, anzi noi regaliamo anche un cattellino in primavera per ripararsi dal sole, ma tutti quanti sono ben organizzati. Dottore, diceva lei l'importanza di svolgere questa attività in compagnia, in coraggio, in qualche modo, ma è anche un modo piacevole per riscoprire le nostre città, le bellezze anche artistiche, architettoniche. Sì, sì, proprio, tra l'altro, negli anni passati abbiamo fatto proprio un progetto più specifico sulla valorizzazione e la riscoperta dei beni culturali, proprio su Catania, che hanno delle passeggiate culturale alla salute, che riproponiamo in tutti i nostri centri, ovviamente molti dei nostri centri hanno già una bellezza che molti conoscono e queste tappe, ovviamente abbinate al cammino, sono un modo anche per riscoprire la città. Nel nostro caso abbiniamo, oltre che all'attività fisica, anche degli incontri di educazione alimentare, di incontri informativi sui rischi legati agli incidenti domestici, in particolare alle cadute, perché il rischio alla casa è ovviamente il luogo più accogliente, ma è anche un luogo di rischio per tutti e quindi anche per gli anziani, quindi diamo un tasne di informazioni in questo senso e poi anche degli incontri con il nostro psicologo sul benessere psicologico. Muoviti ancora, il progetto dell'ASPA di Catania è rivolto in questo caso agli anziani per il benessere psicofisico, efficienza fisica al massimo, un bel progetto davvero, complimenti dottore per questa attività. Rimaniamo con il nostro ospite in studio, il dottor Salvatore Cacciola, sociologo dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Educazione alla Salute dell'ASPA di Catania, per parlare ancora di salute e di benessere fisico, quindi restate all'ascolto. Buongiorno Notizia. Sette minuti dopo le nove rientriamo in studio, siamo sempre con il nostro ospite, il dottor Salvatore Cacciola, sociologo dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Educazione alla Salute dell'ASPA di Catania, con lui stiamo parlando di un bel progetto, del progetto Muoviti ancora, consigli per il benessere psicofisico della persona anziana, queste passeggiate abbiamo detto lungo le nostre città per ritrovare il benessere fisico e stare in forma. Sì, proprio questo. Tra l'altro, come avevamo già detto, lo ribadisco, sono tutti servizi gratuiti dentro il piano di prevenzione, proprio l'azienda sanitaria è impegnata come tutte le altre aziende sanitarie della nostra regione a attuare il piano di prevenzione e uno spazio particolarmente importante, lo copre proprio questa proposta attiva legata alla promozione dell'attività fisica. Volevo ricordare l'importanza anche dei consigli e dell'orientamento che possono svolgere i medici di famiglia. Nel piano di prevenzione sono previste proprio queste attività di consiglio breve e uno dei consigli brevi riguarda proprio la, tra virgolette, la prescrizione dell'attività fisica. È come se noi prescrivessimo un farmaco, ma non è un farmaco, è proprio un'attività che può essere fatta all'aperto, può essere fatta con altre persone. Noi ci raccordiamo molto con i medici di famiglia per realizzare questo progetto. Quindi sono loro che danno l'input iniziale e poi il riscontro è immediato anche perché dopo poche settimane di queste camminate dolci possiamo dire tra virgolette il benessere in effetti si riscontra subito. Non c'è dubbio, cambia l'umore, cambia la capacità anche la difficoltà a respirare, si riduce quando non ci sono problemi ovviamente impegnativi e soprattutto si riducono i rischi di cadute, si riduce il rischio, come dicevo prima, di alcune patologie cardiovascolari e, come dire, è un modo per promuovere salute senza gravare sulla spesa farmaceutica e soprattutto migliorando complessivamente lo stato di benessere della persona. Naturalmente, dottore, al movimento bisogna abbinare anche una corretta alimentazione. Certamente. Questo è uno degli elementi che va assieme. Prova ne sia che noi periodicamente con questi gruppi organizziamo degli incontri con i medici nutrizionisti del Sian, organizziamo degli incontri anche con degli esperti che si occupano di rischio di cadute in ambito domestico, quindi tutti i rischi legati agli incidenti domestici e organizziamo degli incontri di educazione alla salute a secondo poi le esigenze che via via emergono. Possiamo dire quindi in maniera molto sintetica no a sale, a superalcolici e a vino, sì invece a frutta e verdura almeno cinque porzioni ogni giorno e poi naturalmente olio extravergine d'oliva. Sì, sono queste tra le coordinate più importanti. Ovviamente poi, se ci sono delle specifiche esigenze, vanno ovviamente calibrate e monitorate con il medico di famiglia o con lo specialista. Tanti nostri ascoltatori si chiedono allora cosa bisogna fare per aderire a questi gruppi di movimento, chiamiamoli così, a chi bisogna rivolgersi? Sì, bisogna rivolgersi all'azienda sanitaria, all'unità operativa educazione alla salute, potete utilizzare un numero verde 800 09 36 80 o un numero fisso 095 32 25 06. Ora li ricordiamo di nuovo e intanto diciamo, ribadiamo, è tutto gratuito quindi. Sì, è tutto gratuito e non c'è nessun obbligo. Non c'è nessun obbligo, è necessario ovviamente arrivare con un certificato del proprio medico curante di donetà all'attività non agonistica ovviamente e nient'altro. Vi contatteremo, voi potete telefonare, vi diamo un appuntamento. Ci sono ormai diverse sedi, come vi dicevo, diversi punti di riferimento, a Catania all'ingresso della Villa Bellina il lunedì mattina alle nove e così poi nelle altre realtà a Librino, presso la misericordia di Librino, a Mister Bianco presso il centro di urno di Linere del comune di Mister Bianco, a Sant'Agata dei Battiati presso l'associazione Mettiamoci in Gioco, presso la casa degli originali talenti e in ogni caso potete rivolgervi anche al comune di Sant'Agata dei Battiati e adesso dal 31 gennaio poi all'ora 16 inizia il gruppo di cammino presso la misericordia di Acireale. Anche lì, oltre questi nostri riferimenti, un altro riferimento importante del vostro comune di famiglia che ha ricevuto queste informazioni, il contatto è diretto, ci saranno due operatori che vi seguiranno, un esperto lavorato in scienze motorie e un educatore professionale. Ricordiamoli allora ancora i numeri, un numero verde? 800 09 36 80 oppure 095 32 25 07. Per chiudere in sintesi possiamo anche dire questa è l'attività dedicata agli anziani ma è importante il movimento per tutti anche a partire dalla teneretà quindi anche per i bambini? Sì, certamente, il movimento va bene per tutti, ci sono poi delle iniziative specifiche che vengono fatte, per esempio nel caso dei bambini diverse amministrazioni anche in collaborazione con le aziende sanitarie hanno promosso i piedi bus, cioè andare, il promuovere l'attività fisica andando a scuola a piedi e anche coinvolgendo i nonni per avere anche un accompagnamento. Anche i brevi tragitti quindi sono importanti. In ogni caso bisogna promuovere in tutte le occasioni corrette e sicure l'attività fisica ma anche questi gruppi non sono solo gruppi di persone avanti negli anni, ma sono gruppi a cui possono partecipare anche gli altri. Noi abbiamo una scelta prioritaria, facciamo una scelta prioritaria, ma abbiamo notato che vengono amici o conoscenti che possono essere più giovani e non avere 65 anni ma noi non li mettiamo fuori chiaramente. E quindi muovetevi, muovetevi e muovetevi per stare bene, fate sport ma anche più semplicemente appunto Movimento Dolce, una camminata al giorno basta, tre volte a settimana per stare bene. Ringraziamo il nostro ospite, il dottor Salvatore Cacciola, sociologo dirigente responsabile dell'unità operativa di educazione alla salute dell'ASPE di Catania per i tanti consigli che ci ha dato oggi e naturalmente sono tutti consigli mirati al nostro benessere. Lo ritroveremo in uno dei prossimi appuntamenti di Buongiorno Notizia perché sono tantissimi i progetti che avete avviato come ASPE di Catania e come unità operativa e quindi sicuramente la aspettiamo a breve. Grazie ancora dottore. Grazie a voi, al presto. Buongiorno Notizia prosegue ancora con tante notizie e approfondimenti, restate all'ascolto.